Rieccoci con un nuovo video e come potete già vedere dall'inquadratura ovviamente quest'oggi effettueremo una ovviamente stesa unica per quanto riguarda appunto l'amore e in particolar modo utilizzando il metodo del palazzo degli dei, un metodo che appunto richiede l'uso di ben 13 carte. Ovviamente questo sarà appunto un video a una sola variante, voi sapete che io appunto tendo ad alternare video a una variante, video a due varianti per diciamo cercare il più possibile ovviamente di venire incontro ai gusti, alle esigenze ovviamente di tutti voi. Quest'oggi parleremo di una storia nascosta, una storia clandestina ovviamente da più o meno tempo chiaramente, una storia che voi avete appunto perché nascosta? Perché ovviamente con una persona impegnata. Ovviamente ragazzi per impegnata intendo una persona che può essere sposata ma anche fidanzata, convivente, comunque qualcuno che ha al suo fianco ufficialmente diciamo un'altra persona, d'accordo? Quindi non una semplice frequentazione ma un'altra compagna, una persona al suo fianco anche da diverso tempo. E dunque ovviamente dovete tenere nascosto ovviamente almeno per il momento il vostro rapporto. Vogliamo dunque cercare di capire con il palazzo degli dèi tutti gli aspetti salienti di questa storia, dal passato più lontano, cioè la vostra storia, la storia che avete con questa persona, quindi dal lontano passato al presente, gli ostacoli reali presenti nel momento presente. Cerchiamo di capire cosa vorrebbe fare questa persona, cioè cosa ha nel cuore questa persona, quest'uomo, se ha intenzione di scegliere oppure no. Cerchiamo di capire come diciamo procede la sua vita da un punto di vista anche professionale ed economico finanziario piuttosto che appunto familiare, quindi il rapporto anche con l'altra donna e ovviamente il futuro. Per quanto riguarda un futuro più a breve diciamo termine e ovviamente un futuro a lungo termine, tenendo anche conto di un elemento fondamentale, cioè la parola al karma. Cerchiamo di capire ovviamente quali aiuti potrebbe appunto fornirvi il karma. D'accordo? Dunque ovviamente ragazzi iniziamo appunto questa stesa e io appunto inizio a mescolare il mazzo per il principio di sincronicità. Per chiunque appunto di voi stia vivendo una storia clandestina con una persona impegnata, cerchiamo appunto di capire come procederà questa storia ovviamente in un futuro più imminente, un futuro anche più distante. Cerchiamo di dare parole al karma e di capire anche come sta vivendo questa triangolazione quest'uomo perché non tutti eh ragazzi la vivono in maniera così diciamo spensierata eh. Vediamo un po'. Perfetto, mamora. Dunque inizio a disporre le carte sul tavolo di stesa. Allora. Perfetto, mamora. Grilleilasso. Questa의 Plan Perfetto, mamora. Grazie. Perfetto. Dunque, ovviamente ragazzi come sempre allontaniamo il mazzo dal tavolo di stesa anche perché come vedete obiettivamente appunto questo mazzo richiede ovviamente molto spazio per poter essere in qualche modo steso e soprattutto ben visibile dalla ovviamente telecamera. Dunque, 13 carte, palazzo appunto degli dei. In questa posizione abbiamo appunto il passato più lontano quindi da qualche settimana fa anche a qualche mese fa. In questa seconda posizione appunto abbiamo il passato più recente quindi da poche ore fa anche addirittura a qualche settimana fa, qualche giorno fa. In terza posizione abbiamo il presente. In quarta posizione il comportamento da parte ovviamente del consultante e quindi il vostro comportamento nei confronti di questa persona come anche viene letto da parte di questa persona. In queste due posizioni abbiamo proprio i blocchi, cioè gli ostacoli veri e propri che obiettivamente vanno ad impedire chiaramente una facile risoluzione della vostra questione, della vostra storia. In questa posizione ovviamente ciò che lui vuole, ciò che vorrebbe, in quest'altra posizione ciò che dovrebbe fare, quindi fondamentalmente diciamo il consiglio degli arcani. In questa posizione l'ambito lavorativo di ovviamente quest'altra persona quindi non il vostro ma appunto del vostro diciamo amante segreto. E in questa posizione il suo ambiente familiare, quindi rapporto con lei ma anche, quindi con l'altra donna, ma anche ovviamente con la famiglia ufficiale, quindi mamma, papà, fratelli e sorelle. Queste tre posizioni rappresentano appunto invece il futuro, ossia in questa posizione il futuro diciamo a breve termine, quindi anche diciamo quei fatti inaspettati che appunto evidentemente andrete a vivere. In questa posizione, penultima posizione, dodicesima carta, abbiamo appunto gli aiuti esterni che vi arriveranno aiuti o anche ostacoli posti dall'esterno ovviamente, quindi da parte di persone che conoscete o comunque anche ostacoli voluti dal destino, dal karma. E in quest'ultima posizione appunto il futuro ovviamente più lontano, quindi stiamo parlando anche ovviamente di qualche settimana o anche di mesi a seconda ovviamente del valore dell'arcano estratto. Perché voi sapete che ogni singolo arcano ha delle tempistiche ben precise, d'accordo? Quindi ovviamente i tarocchi sono molto precisi per quanto riguarda sicuramente le tempistiche di realizzazione ovviamente degli eventi. Dunque, detto questo possiamo appunto iniziare la stesa vera e propria e ovviamente partiamo dalla prima posizione che come vi dicevo poco fa appunto è inerente. Ad un passato non proprio diciamo recente, quindi qualche settimana ma anche magari qualche mese fa cerchiamo appunto di capire come ovviamente il vostro rapporto ha attraversato appunto questa periodizzazione e qui abbiamo la regina di denari. Allora ragazzi è importante ovviamente fare questa premessa, cioè sicuramente per quanto riguarda i tarocchi e ovviamente una stesa tarologica, quindi in tarologia ogni arcano ha un proprio ruolo ben preciso. Quindi ovviamente soprattutto le carte di corte, quindi ovviamente re, regina, fante e ovviamente cavaliere. La regina di denari e la regina di spade rappresentano l'altra donna. La regina di coppe e la regina di bastoni rappresentano la consultante. Quindi in questo caso ovviamente come regina di denari abbiamo già immediatamente in apertura distesa la presenza dell'altra donna che però ovviamente non compare come regina di spade. Questo che cosa significa? Che effettivamente il rapporto tra lui e questa donna è un rapporto dal sapore amichevole, ossia i personaggi di denari rappresentano solitamente le amicizie, i bastoni rappresentano amanti di letto diciamo, e invece ovviamente i personaggi, le carte di corte e di coppe rappresentano persone che si amano o dalle quali ovviamente si è amati e ovviamente i personaggi di spade rivali, ma veri e propri rivali, quindi sicuramente persone che in qualche modo hanno un ruolo fondamentale nella vita dell'altra persona. Ecco, in questo caso appunto invece i personaggi di denari, come la regina di denari, ha un ruolo diciamo più amichevole, io direi quasi fraterno. Ecco, in questo caso è vero perché solitamente so che appunto generalmente viene raccontato dalla controparte, quindi da lui fedifrago, che il rapporto con la compagna ufficiale è ovviamente il classico rapporto tra fratello e sorella. Ecco, molto spesso è frutto ovviamente di esagerazione, di menzogna per cercare magari di tacitare il reale valore della compagna ufficiale. In questo caso, nel caso in cui ve l'abbia detto, è la verità. Cioè, effettivamente il rapporto tra lui e questa donna è un rapporto che obiettivamente non prevede particolare, diciamo, rapporto fisico, non è un rapporto basato sui sentimenti, è una regina di denari ovviamente, ma è un rapporto direi più similare a una società per azioni. Nel senso che ovviamente sono persone che si occupano entrambe, ovviamente magari non allo stesso modo, non allo stesso livello, ma comunque, diciamo, dell'andamento economico, finanziario, parliamo di denari, della famiglia, quindi si occupano in qualche modo di portare avanti, diciamo, questa famiglia nel migliore dei modi, da un punto di vista pratico e concreto, però chiaramente mettendo da parte ovviamente sensualità, sessualità, momenti di tenerezza, ecco, sono due persone che si ritrovano, diciamo, comunque a cenare allo stesso tavolo per discutere di faccende e questioni ovviamente pratiche, legate al loro ambito familiare, ma da un punto di vista appunto economico-finanziario. Cioè non sono persone che si scambiano effusioni, non sono persone che in qualche modo stanno progettando una vita insieme a ovviamente lunga scadenza, cioè sono persone che nel caso in cui per esempio abbiano figli, perché generalmente la regina di denari è madre, ecco nel caso in cui abbiano figli parlano e discutono di questioni pratiche ovviamente legate ai figli, oppure parlano di bollette piuttosto che tasse da pagare, piuttosto che stipendio, problemi economico-finanziari, quindi sono persone che a volte anche cercano di darsi consiglio l'un l'altro, proprio ovviamente come è tipico tra due amici, d'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente la regina di denari è una donna tutto sommato che per voi non rappresenta un enorme ostacolo, d'accordo? Tra l'altro non mi viene in accezione negativa, quindi obiettivamente è una donna che sa anche stare al suo posto. Allora, sì, è vero, la regina di denari a volte è particolarmente, diciamo, possessiva, non gelosa, possessiva, che sono due cose ben diverse, quindi tende un po' a controllare, diciamo, tutto il suo ambiente domestico, perché appunto è la regina di casa, di solito la regina di denari. Ecco, obiettivamente sì, potrebbe controllarlo, diciamo, però non è una regina di spade, cioè obiettivamente non è un carceriere, cioè non è la classica persona che ovviamente controlla sistematicamente il cellulare, o comunque i suoi spostamenti, o che gli metta cimici in macchina, cioè sicuramente una persona che sì, tiene d'occhio la situazione, ma non in maniera del tutto vincolante, d'accordo? Quindi, vi ripeto, non è un enorme ostacolo lei, anche perché è una regina di denari. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, a lei interessa il rapporto con quest'uomo, non perché ne è innamorata, ok, ma semplicemente perché, vi ripeto, vede in questo rapporto, vedete, una stabilità. La regina di denari è generalmente rappresentata, appunto, seduta, quindi obiettivamente è una donna che ritrova nel proprio ambiente familiare e casalingo una grande stabilità. Quindi, vi ripeto, è una donna che tiene, ovviamente, al rapporto con lui, ma non perché, vi ripeto, è follemente innamorata di lui, non è una regina di spade, che lo vuole a tutti i costi, ma, ovviamente, è una persona che, chiaramente, tende a volere, in qualche modo, diciamo, mantenere intatto il loro rapporto, ma perché, vi ripeto, ovviamente, è molto legata al proprio ambiente, alla propria quotidianità e alla propria routine. Quindi, generalmente, anche la regina di denari, è una donna che ama molto, diciamo, situazioni che, per le altre tre regine, potrebbero sembrare assolutamente noiose, d'accordo? La regina di denari, invece, ama tutte queste situazioni rutinarie, quindi, diciamo, il suo status quo e la sua comfort zone ci tiene e, di conseguenza, questo è il motivo che la tiene legata a quest'uomo, ma, vi ripeto, non è particolarmente gelosa, non è un, diciamo, carceriere, può tenere, ovviamente, sotto controllo la situazione, ma, vi ripeto, lo fa perché ama particolarmente, ovviamente, evitare cambiamenti e scossoni. Quindi, è una donna che non ama i cambiamenti, d'accordo? Quindi, ha paura dei grandi cambiamenti, teme di non saperli affrontare, non è una regina di bastoni, la regina di bastoni, invece, vive di cambiamenti, di fuoco, di energia, di passioni. La regina di denari, invece, assolutamente è all'opposto, cioè, ama la tranquillità, vuole la serenità, sta donna, quindi, non ama, in qualche modo, separazioni, divorzi, allontanamenti, perché non ama il dramma, d'accordo? Quindi, è una donna che ama la tranquillità. Però, vi ripeto, non è innamorata questa donna, anche se possa dire il contrario, non è una donna, vi ripeto, legata a lui da un amore profondo, è una donna legata a lui da abitudinarietà, che è diverso, d'accordo? Però, ovviamente, è una presenza, comunque, presente, appunto, nella vita di lui. Cioè, non è particolarmente vincolante, ma c'è, ragazzi, eh? Perché, se, ovviamente, è stata estratta, è perché, comunque, questa donna ha un ruolo, ha un peso, d'accordo? E, ovviamente, lo ha avuto, in particolar modo, in un passato, ovviamente, non recente. Quindi, negli scorsi mesi, ovviamente, questa è stata una donna molto presente al fianco di quest'uomo, ma, per questioni economico-finanziarie, in particolar modo. Ora, vediamo, invece, in un passato, più, invece, appunto, recente, come, in qualche modo, sono andate avanti le cose con questa regina, ovviamente, di denari, a questo punto, ma, soprattutto, anche con voi. E qui abbiamo, ovviamente, l'asso di bastoni. Allora, ovviamente, quest'uomo prova per voi, ovviamente, perché la stesa è riferita a voi, una attrazione, parliamo di bastoni, che è veramente molto forte. Cioè, mentre, ovviamente, vede nella sua regina di denari, vedete, una, un'amica, diciamo così, quindi, una confidente, una persona che conosce, magari, anche da tanti anni, di cui si fida, per carità, in voi, vedete, vede, appunto, il simbolo, per eccellenza, fallico. L'asso di bastoni è legato, ovviamente, all'elemento fallico. Quindi, sicuramente, questa immagine riporta, vedete, con questa, diciamo, piccantissima zarrettiera, appoggiata, appunto, a questo bastone, rappresenta una, ovviamente, nottata, particolarmente intensa, da un punto di vista erotico, e, ovviamente, sessuale. Quindi, sicuramente, è una persona, che, ovviamente, frequentandovi, in particolar modo, devo dire, negli ultimi giorni, o nelle ultime settimane, sta provando un fuoco, interiore, nei vostri confronti, sicuramente, molto più acceso. Quindi, nel caso, abbiate notato, da parte sua, un cercarvi di più, comunque, un bramare maggiormente, per potervi vedere, o anche sentirsi, magari, insoddisfatto, per, appunto, non riuscire a vedervi, sappiate che, proprio perché, nel suo cuore, e anche in altre parti, ovviamente, anatomiche, questa persona, diciamo, che sta sentendo molto, il desiderio di voi. Quindi, quando, ovviamente, voi non siete insieme, questa persona, si sente persa, e quindi, vi desidera enormemente, cioè, vede, obiettivamente, in voi, un elemento importante, ovviamente, fondamentale, per il pieno soddisfacimento, appunto, di quelli che sono, i suoi desideri, e i suoi bisogni. Però, ovviamente, ragazzi, l'asso di bastone, non parla solo di desiderio fisico, l'asso di bastone è un asso, quindi, rappresenta una sorta di nuovo inizio, cioè, nella testolina, di questa persona, stanno balenando, appunto, dei pensieri molto belli, e molto positivi, nei vostri confronti, proprio perché, in qualche modo, è come se in lui, stiano nascendo, è un asso, dei nuovi pensieri, in riferimento, al rapporto con voi, e lo sta vedendo, diciamo, sotto un'ottica, un po' più concreta, perché, appunto, parliamo di bastoni, quindi, è come se, diciamo, questa persona, in quest'ultimo periodo, stia, diciamo, cercando, in qualche modo, di, anche riflettere, molto di più, su quella che è, la sua reale esistenza, per cercare, praticamente, concretamente, appunto, bastoni, di gestire, ovviamente, al meglio, queste due situazioni, però, con uno sguardo, verso il futuro, è un nuovo inizio, con voi, d'accordo? Ora, vediamo, in terza posizione, invece, il presente, cioè, ad oggi, come sta procedendo, il rapporto, ovviamente, tra voi, e questa persona, e qui abbiamo, l'otto di spade, attenzione, a qualche pettegolezzo, di troppo, eh, perché, allora, l'otto di spade, ragazzi, rappresenta, generalmente, pettegolezzi, e malelingue, che, obiettivamente, potrebbero, in qualche modo, diciamo, creare, delle appreensioni, in lui, cioè, o qualcuno, ha, scoperto di voi, o anche, semplicemente, il sospetto di voi, oppure, diciamo, evidentemente, lui si è comportato, magari, in maniera, un po' incauta, per cui, potrebbe, avere, insospettito, diciamo, la compagna ufficiale, o anche, qualche amico, o familiare, perché no, parente, fatto sta, che questa persona, ha avuto, e ha paura, nel presente, che ci possa essere, qualche rana, dalla bocca larga, che, in qualche modo, possa andare, a riferire, qualcosa, alla compagna ufficiale, o che possa, provocare, diciamo, uno scandalo, perché l'otto di spade, rappresenta, proprio, vedete, la riprovazione sociale, nei confronti, appunto, di, diciamo, comportamenti, che non vengono visti, come del tutto, morali, ed eticamente, accettabili, e che, quindi, potrebbero mettere, ovviamente, questa persona, a disagio, e a pubblica, gogna, d'accordo? Quindi, questa persona, ovviamente, ha paura, teme, che qualcuno, potrebbe aver scoperto, qualcosa, perché, vi ripeto, l'otto di spade, parla proprio di, pettegolezzi, di calugne, parla di malelingue, parla di, scandalo, quindi, attenzione, anche, a persone furbe, che fingono, di essere amiche, ma non lo sono, quindi, personalità, molto invidiose, anche, magari, della vostra felicità, di questo bel rapporto, che c'è tra di voi, e, ovviamente, sicuramente, in questo caso, questa persona, sta prestando, molta attenzione, cioè, nel caso in cui, abbiate notato, questa persona, in questi giorni, un po' più, diciamo, attenta, del solito, sappiate, che lo sta facendo, proprio perché, ha avuto il sospetto, che ci possa essere, qualcuno, che possa aver, scoperto, qualcosa, questo, gli ha provocato, ansia, e apprezzione, perché l'otto di spade, rappresenta, proprio questo, delle preoccupazioni, d'accordo, quindi, legate al non farsi, scoprire, questa è una persona, che, in questo momento, sta, in qualche modo, provando, una sensazione, di, diciamo, paura, di, in qualche modo, disagio, in riferimento, appunto, al fatto, che qualcuno, possa aver, scoperto, qualcosa, di, troppo, d'accordo, quindi, potreste notare, in questi giorni, in lui, degli atteggiamenti, più prudenti, in qualche modo, non dico, più distaccati, ma, obiettivamente, più discreti, o, possa chiedere, a voi, questa persona, magari, più discrezione, ma, vi ripeto, unicamente, per il timore, che, ovviamente, qui, ci possa, in qualche modo, essere, qualche problema, legato, a qualche bocca, e a qualche lingua, di troppo, quindi, attenzione, ragazzi, anche, eventualmente, perché, l'otto di spade, riguarda, anche, questo, quindi, attenzione, anche, alle persone, con le quali, per esempio, vi confidate, con le quali, lui, si è confidato, magari, anche voi, vi confidate, perché, potreste, incappare, appunto, in falsi amici, o, comunque, situazioni, ingannevoli, perché, vi ripeto, l'otto di spade, parla, proprio, di problematiche, legate, a terze persone, che, potrebbero, fingere, ovviamente, nei vostri confronti, un atteggiamento, benevolo, ma, in realtà, vi ripeto, sono persone, che, potrebbero, addirittura, mirare, a raccontare, tutto, a questa, regina di denari, e, esattamente, come lei, ovviamente, in questo momento, non vuole scossoni, e odia, detesta i cambiamenti, anche lui, evidentemente, in questo momento, non è pronto, a un cambiamento, del genere, soprattutto, se provocato, ovviamente, da terze persone, d'accordo? Quindi, non è un cambiamento, programmato, e organizzato, come sta pensando lui, di fare, con questo asso di bastoni, eh? Però, vi ripeto, attenzione alle persone, che potrebbero avervi visto, potrebbero sapere di voi, o con le quali, voi potreste, in qualche modo, esservi, magari, confidate, ecco, cercate, magari, di seguire, un po', la sua linea, della discrezione, perché, vi ripeto, qui, evidentemente, qualcuno, potrebbe aver scoperto, qualcosa di troppo. Ora, in questa quarta posizione, appunto, ci occupiamo, invece, del vostro comportamento, e qui, abbiamo, un tre di bastoni, che è la carta, per eccellenza, della, diciamo, attesa. Ovviamente, però, ragazzi, non è sicuramente, un'attesa non proficua, non in questo mazzo, ovviamente, in mazzi più tradizionali, la carta del tre di bastoni, è, ovviamente, rappresentato, da una giovane donna, questo arcano, rappresentato, appunto, da una giovane donna, che sta attendendo, ovviamente, l'arrivo, di una nave, nave che sta arrivando, ma, che, ovviamente, non è ancora, giunta al porto, proprio perché, ovviamente, deve percorrere, ancora, chiaramente, il proprio tragitto. Quindi, il tre di bastoni, ragazzi, parla sicuramente, di un'attesa, però, vi ripeto, è una carta di grado terzo, quindi, parla sicuramente, di evoluzione, d'accordo? Quindi, ovviamente, voi avete, un atteggiamento, molto accomodante, un atteggiamento, molto paziente, un atteggiamento, discreto, un atteggiamento, che sarà assicurarlo, perché, è un atteggiamento, vi ripeto, molto educato, paziente, ma anche concreto, tra i di bastoni, parliamo di concretezza, cioè, questa persona, obiettivamente, sa che, comunque, voi lo state, diciamo, aspettando, che comunque state portando tanta pazienza, questa persona sa che, comunque, voi siete, effettivamente, una donna molto pratica, molto intelligente, una donna che sa andare oltre le sciocchezze, la superficialità, di alcune situazioni, per, invece, affrontare, in maniera assolutamente impeccabile, le situazioni, magari, più gravose della vita, cioè, questa persona sa che, ovviamente, in qualche modo, di voi e su di voi può contare, però, è pur sempre una carta di terzo grado, che cosa vuol dire? Che parla, comunque, di triangolazioni, anche, per quanto riguarda la vostra vita, cioè, il tre di bastoni, parla, ovviamente, anche, della possibile presenza, nella vostra vita, di una terza persona, che, appunto, potrebbe, ovviamente, corteggiarvi, vedete, in questa carta, qui abbiamo questa donna, che attira tre uomini, quindi, ragazzi, obiettivamente, ragazze, ragazze, sicuramente, in questo caso, questo tre di bastoni, ci parla, anche, della possibilità, che ci sia, una terza persona, molto interessata, a voi, una terza persona, che, evidentemente, fa parte, della vostra, cerchia di conoscenze, cioè, non è una persona nuova, è una persona, che voi già conoscete, e che, ovviamente, è molto interessata a voi, nel caso, in cui voi, siate impegnate, è sicuramente, il vostro compagno, nel caso, in cui voi, siate single, è ovviamente, una terza persona, che però, vi ripeto, fa già parte, delle vostre conoscenze, quindi, è sicuramente, una persona, molto interessata a voi, perché parliamo di bastoni, che vi desidera, particolarmente, e che, ovviamente, vi vuole conquistare, d'accordo? Quindi, questa persona, cioè, il soggetto della stesa, ha il sospetto, che voi possiate essere ambite, da altre persone, i bastoni, parlano di gelosia, d'accordo? Quindi, teme di perdervi, e ha, vedete, la consapevolezza, che voi potreste, essere corteggiate, da altre persone, questo, sicuramente. in queste due posizioni, invece, appunto, che verranno, appunto, lette, contemporaneamente, assieme, abbiamo, diciamo, i problemi, gli ostacoli, il vero e proprio blocco, quindi, tutti quegli impedimenti, che vi impediscono, in qualche modo, di stare insieme, di vedervi, o comunque, di prendere, per esempio, una decisione, da parte, ovviamente, dell'altra persona. Qui abbiamo, il 2, di coppe, e in quest'altra posizione, abbiamo il 5, di spade. Allora, allora, il problema di questa persona, ovviamente, è dato, appunto, dal 2, di coppe, 5, di spade, cioè, 5, di spade, rappresenta, la chiusura, rappresenta, ovviamente, diciamo, anche, una chiusura, abbastanza forte, abbastanza dolorosa, su 2, di coppe, quindi, un rapporto, in essere. Allora, ragazzi, questa è una persona, che sa, di per certo, appunto, che, il vostro rapporto, ovviamente, dovrà, comunque, ancora, pazientare, essere messo, diciamo, comunque, in attesa, proprio perché, obiettivamente, la chiusura, con l'altra donna, può essere, particolarmente, dura e dolorosa, 5, di spade. E, ovviamente, questa persona, sa, che dovrà tirarsi sulle maniche, dovrà lavorarci su parecchio, anche perché, qui, con questo 5 di spade, ovviamente, potremmo parlare, anche, di interferenze familiari, perché, di solito, le carte di grado quinto, rappresentano, anche, l'ambiente familiare, in particolare, ovviamente, della compagna ufficiale, che potrebbero, appunto, in qualche modo, quindi, genitori, piuttosto che, appunto, suoceri, cognati, eccetera, mettersi di traverso, in riferimento a questa situazione, quindi, potrebbero causare, dei forti ostacoli, addirittura, il 5 di spade, parla di imbrogli, parla di truffe, quindi, parla di situazioni, comunque, a volte, anche molto, difficili, da, in qualche modo, risolvere, situazioni, che, ovviamente, potrebbero, vedete, portare, comunque, a dolore, preoccupazioni, e perplessità, quindi, il problema qui, è la chiusura, del rapporto ufficiale, perché la carta del 2 di coppe, parla del rapporto ufficiale, che lui ha in essere, e il 5 di spade, parla proprio, della chiusura, quindi, il problema, tra di voi, in realtà, è proprio rappresentato, dal momento, dalla scelta, dalla decisione, di chiudere, ovviamente, il rapporto ufficiale, momento, che rappresenterebbe, per questa persona, effettivamente, una sorta, di rivoluzione, comunque, diciamo, una situazione, molto difficile, molto dolorosa, che, vi ripeto, può, in qualche modo, prevedere, anche, delle piccole faide, diciamo, familiari, per cui, potrebbero, mettersi in mezzo, in questa situazione, appunto, anche i familiari, di lei, d'accordo? Per cui, lui prevede, anche, vi ripeto, situazioni, poco chiare, situazioni di disequilibrio, situazioni, in qualche modo, che potrebbero, appunto, creargli, notevole difficoltà, d'accordo? Perché il 5 di spade, parla proprio, vi ripeto, di difficoltà, legate a terze persone, che, però, non, come nel caso, dell'8 di spade, diciamo, rappresentano, semplicemente, dei pettegolezzi, ma, che rappresentano, invece, in questo caso, come tipico del 5 di spade, dei veri e propri rivali, e nemici, che pur di vincere, farebbero di tutto. Quindi, questa persona teme molto, la famiglia di lei, o comunque, anche le amicizie, cioè, tutte le persone, che potrebbero, in qualche modo, parteggiare, ovviamente, per lei. Quindi, è chiaro che, sicuramente, come vi dicevo poco fa, il vostro rapporto, purtroppo, momentaneamente, sta risentendo, proprio, magari, di alti e bassi, o comunque, appunto, di attese, ma, proprio perché, ovviamente, questa persona, sta cercando, di ritardare, il più possibile, la decisione, di lasciare questa donna, perché, vi ripeto, teme delle ritorsioni, abbastanza impegnative, perché è un 5 di spade, che parla, vi ripeto, di truffe, di vendette, di rancore, e, soprattutto, di litigi, perché le carte, di grado quinto, rappresentano, dei grossissimi, litigi, d'accordo? Quindi, litigi molto, importanti, che, obiettivamente, rappresentano, sicuramente, un momento, di grande dolore, e preoccupazione, per questa persona. Quindi, ha delle preoccupazioni, abbastanza, diciamo così, sentite, perché, non si fidano, delle persone, che circondano, la regina, di denari. Le vede, come persone, molto agguerrite, molto cattive, che, ovviamente, sarebbero pronte, a tutto. Ora, in questa posizione, invece, ci occupiamo, di ciò, che lui vorrebbe, effettivamente, a questo punto, e qui, abbiamo, la carta del mondo, chiudere un ciclo, e iniziarne un altro. Allora, questo è, ovviamente, un dato di fatto, e per voi, è anche una, bellissima, ovviamente, carta, perché rappresenta, la certezza, e la sicurezza, che questa persona, vorrebbe proprio, chiudere, il rapporto, ovviamente, con la compagna, ufficiale, per ricominciare, vedete, proprio, un nuovo ciclo, di vita. Questa è una persona, molto, molto, stanca, è una persona, che è stanca, vi ripeto, pur non, diciamo, stando particolarmente male, con questa regina, di denari, però, è una persona stanca, è una persona, che, vi ripeto, si sente molto, oppressa, da questa situazione, e che ha proprio voglia, ve lo dicevo, con l'asso di bastoni, di ricominciare, da capo, una vita con voi, quindi, è una persona, che vuole proprio, chiudere, il rapporto, con la compagna, ufficiale, ragazzi, non è il 3 di coppe, se, mi fosse, per esempio, uscita la carta, del 3 di coppe, oppure, del diavolo, d'accordo, il 15esimo arcano maggiore, vi avrei detto, ragazzi, allora, questa persona, ha, ovviamente, come desiderio finale, come sogno nel cassetto, quello di mantenere, tranquillamente, almeno, ovviamente, in futuro, il piede in due scarpe, quindi, è una persona, che non ha, intenzione, di chiudere, in questo caso, con la carta del mondo, devo dirvi, l'esatto contrario, cioè, questa è, la classica persona, che vuole chiudere, assolutamente, un ciclo, per iniziarne, un altro, completamente, ovviamente, diverso, d'accordo, quindi, vuole chiudere, un rapporto, del passato, che come tipico, della carta del mondo, lui, reputa, ormai, non avere più nulla, da dargli, cioè, lui sente esaurito, ovviamente, questo rapporto, ed è vero, perché, ovviamente, vi ripeto, con la regina di denare, vi dicevo, non ci sono, assolutamente, ovviamente, legami, né rapporti, né da un punto di vista fisico, ma neanche, ovviamente, un rapporto, diciamo, sentimentalmente, sentito, quindi, vi ripeto, è una persona, che ha proprio voglia, e bisogno, assolutamente, di cambiare aria, quindi, di ricominciare, ovviamente, da capo, quindi, questa è una persona, che vuole proprio, completamente, cambiare aria, cambiare vita, quindi, questa è una persona, che vuole ricominciare, da capo, e lo vuole fare, ovviamente, con voi. Ora, vediamo, invece, in questa posizione, il consiglio, ovviamente, degli arcani, cioè, che cosa, ovviamente, questa persona, dovrebbe, ovviamente, fare, per, sicuramente, cercare di gestire, al meglio, chiaramente, questa separazione, questo allontanamento, questo 5 di, ovviamente, spade, che, abbiamo visto, lo preoccupa, particolarmente, vediamo, un po', e qui, abbiamo, la regina di bastoni, allora, dovrebbe, chiaramente, seguire voi, cioè, la regina di bastoni, come vi dicevo, appunto, ad inizio stesa, rappresenta, assieme, appunto, alla regina di coppe, ovviamente, la consultante, dunque, ovviamente, questa persona, dovrebbe lasciare, libero spazio, alla sua regina di bastoni, che siete, appunto, voi, quindi, dovrebbe cercare, il più possibile, di seguire, i suoi sentimenti, e i suoi desideri, questa, è una persona, che, a seguito, di tutti questi pensieri, cinque di spade, quindi, un mentale, che, ovviamente, ragiona tanto, forse, anche troppo, sta andando a castrare, un rapporto, molto bello, cioè, quello con voi, perché voi, siete la sua regina di bastoni, la regina di bastoni, ha tante caratteristiche positive, tra le quali, essere una donna, molto bella fisicamente, perché rappresenta, la bellezza, rispetto, ovviamente, alle altre, tre regine, una bellezza, molto più sensuale, non come, diciamo, la regina di coppe, che rappresenta, una bellezza, più eterea, in questo caso, la regina di bastoni, rappresenta, una donna, molto bella, una donna, sessualmente, sicuramente, molto appetibile, una donna, molto, obiettivamente, intelligente, una donna, sicuramente, molto pratica, una donna, coraggiosa, una donna, forte, determinata, in grado, di aiutare chi ama, quindi, dovrebbe, ovviamente, seguire, maggiormente, l'onda, diciamo, della vostra, determinazione, del vostro coraggio, forse, anche, proprio, imparare, da voi, appunto, ad avere degli atteggiamenti, molto più coraggiosi, più propositivi, nei confronti della vita, e, di conseguenza, prendendo voi, ad esempio, questa persona, deve cercare, il più possibile, di sbloccare, questa situazione, cioè, quello che gli viene consigliato, ragazzi, ovviamente, dalle carte, è, appunto, di seguire il cuore, e seguire la sua passione, la regina di bastoni, siete voi, è una persona, che, evidentemente, affidandosi, tra virgolette, ovviamente, a voi, vivrà, sicuramente, vivrebbe, sicuramente, una vita molto più semplice, molto più serena, molto più felice, ma non lo fa, ecco perché, dicevo, che va a castrare, la sua gioia, la sua felicità, non soltanto, il suo erotismo, sicuramente, lo castra, ma castra anche un po' tutto, quindi, sicuramente, una gioia, vedete, familiare, che sarebbe, molto meno noiosa, della famiglia, decisa e scelta, dalla regina di denari, cioè, questa persona, si sentirebbe amata, ricambiata, desiderata, vivrebbe, sicuramente, una vita molto più, diciamo, viva, con sentimenti, molto più vividi, che renderebbero, ovviamente, questa persona, molto più felice, e appagata, quindi, il consiglio, è, ovviamente, seguire voi, non, permanere, in questo ambito familiare, così, pesante, e vi ripeto, anche noioso, quindi, avere una vita più, diciamo, attiva, più, pazza, anche se vogliamo, folle, intensa, energica, passionale, che è la vita offerta, dalla regina, di bastoni, questo gli farebbe, in qualche modo, riassaggiare, non solo i piaceri della vita, ma anche la voglia, in qualche modo, di portare avanti, la propria vita, con maggior serenità, con maggior propositività, a prescindere, ovviamente, da tutto quello, che possa essergli accaduto, ovviamente, in passato, d'accordo? Vediamo, ora, in questa posizione, l'ambito professionale, e, in quest'altra posizione, l'ambito, ovviamente, invece, familiare, allora, l'ambito professionale, di questa persona, è appunto, caratterizzato, dal 9 di denari, allora, le cose stanno migliorando, sicuramente, 9 di denari, ma, miglioreranno, ancora di più, in futuro, il 9 di denari, parla, appunto, sicuramente, di arrivo, di denaro, che potrebbe, arrivare, anche, per esempio, da, eredità, piuttosto, che una, diciamo, rinnovata, liquidità, proprio, pratica, monetaria, che potrebbe, in qualche modo, aiutare molto, questa persona, in riferimento, a suoi progetti, del tutto, personale, non di coppia, perché, le carte, di grado, non, ovviamente, rappresentano, l'essere single, quindi, evidentemente, in particolar modo, il 9 di denari, rappresenta, proprio, una vita da single, cioè, questa è una persona, che in maniera molto furbetta, sta cercando, ovviamente, grazie anche al suo lavoro, di, in qualche modo, racimolare, più denaro possibile, proprio, per riuscire a, diciamo, vivere, una vita, ovviamente, da separato, divorziato, lontano, comunque, da questa regina, di denari, nella maniera, più, ovviamente, dignitosa possibile, quindi, è una persona, che sta cercando, di osservare bene, l'andamento, delle proprie finanze, proprio, per riuscire, in qualche modo, a gestire, ovviamente, anche bene, il proprio futuro, un futuro da single, lontano, da questa regina di denari, che, evidentemente, ha un potere, diciamo, economico, maggiore rispetto al suo, o ne avrà, in sede di separazione e divorzio, lui potrebbe essersene, già, in qualche modo, sincerato, potrebbe aver già parlato, con, eventualmente, un avvocato, un divorzista, proprio, per cercare di capire, quanto, potrebbe, ovviamente, essere, da un punto di vista pratico, monetario, l'esborso, da parte di questa persona, dunque, è chiaro, che se ne sta occupando, soprattutto, nel caso, in cui abbia dei figli, ma, vi ripeto, l'ambito economico, finanziario, professionale, tenderà ad andare, sempre meglio, in futuro, perché, vi ripeto, qui ci sono, proprio, diciamo, parecchi soldi, c'è del denaro, che entrerà copioso, nelle tasche di questa persona, e, ovviamente, lo farà sentire, maggiormente, con le spalle coperte, ma, vi ripeto, in virtù di una vita da single, o, comunque, lontano, dall'ambiente ufficiale, però, vi ripeto, sta migliorando, e migliorerà, di parecchio, eh, il suo ambito economico, finanziario, e, anche in ambito professionale, questa persona potrebbe, diciamo, vedersi, in qualche modo, aumentare, appunto, lo stipendio, piuttosto che anche, il livello nella propria carriera, quindi, sicuramente, è una persona, che andrà avanti, migliorando sempre di più, la propria posizione, professionale, ed economico, finanziaria. Ora, vediamo, in questa posizione, ovviamente, l'ambito familiare, cioè, cerchiamo di capire, come procede, appunto, il rapporto con lei, ma anche, evidentemente, con il resto, della sua famiglia. E qui abbiamo, il 2 di denari. Allora, la scelta. Allora, ragazzi, come vi ho detto, con la carta del mondo, questa è una persona, che vuole scegliere, è una persona stanca, è una persona, che vuole ricostruirsi una vita, vuole ripartire da zero, e lo vuole fare con voi. Vi dicevo, che, il vero e proprio blocco, risiede, proprio, nella chiusura, vera e propria, pratica, del rapporto con questa donna, perché, chiaramente, sa che sarà, un percorso molto doloroso, e fortemente ostacolato. Ora, lui sta proprio pensando, con il 2 di denari, come tutte le carte di grado secondo, rappresentano un bivio, quindi, la scelta, non tra due donne, ma, su come agire, per riuscire, a, ovviamente, limitare i danni. Il 2 di denari, parla proprio, del valutare i pro e contro, di una determinata situazione, per non incappare, in futuro, in, in qualche modo, gravi errori, o comunque, problematiche importanti, che potrebbero farlo sentire, ovviamente, in uno stato di forte disequilibrio. quindi, sicuramente, questa è una persona, che, obiettivamente, ha tutta l'intenzione, di scegliere, ed è sul punto, eh, di effettuare, anche eventualmente, una scelta, ma prima di farlo, ci vorrà ancora del tempo, perché non è un 2 di bastoni, è un 2 di denari, i denari, ovviamente, ragazzi, sapete che tendono un po' a rallentare, ovviamente, le tempistiche, ma, perché questa persona, deve valutare, bene, vi ripeto, i pro e i contro, di una determinata situazione, quindi, questa non è, vi dicevo già, anche con la carta del mondo, la classica persona, che vuole mantenere, a lungo tempo, il piede in due scarpe, questa è una persona, pronta ad effettuare, una scelta, ma, vi ripeto, è anche una persona, che vuole evitare, grossi problemi, in futuro, quindi, deve soppesare, molto bene, qualsiasi, ovviamente, scelta e decisione, quindi, vuole valutare bene, vi ripeto ragazzi, tutti i pro e contro, per evitare problemi futuri, d'accordo, quindi, vuole vederci chiaro, anche e soprattutto, da un punto di vista, economico finanziario, perché qui abbiamo, di nuovo, una carta di denari, quindi, questa è proprio, la stesa di una persona, che non vuole, avervi come amante a vita, eh, questa è una persona, che vuole scegliere, che vuole decidere, anche se, ahimè, con tempistiche, un po' lunghe ragazzi, ma, perché vi ripeto, ci sono delle valutazioni, economico finanziarie, importanti da fare, ultime tre posizioni, ovviamente, le posizioni del futuro, quindi, vi ripeto, in questa posizione, abbiamo appunto, in terza e ultima posizione, la linea di tendenza futura, quindi, a cosa, ovviamente, andrete incontro, entro, ovviamente, breve tempo, per quanto riguarda, ragazzi, chiaramente, il vostro rapporto, vediamo un po', e qui abbiamo, la carta della morte, che è una carta meravigliosa, mi raccomando, ragazzi, perché la carta della morte, viene descritta, nelle maniere più, ovviamente, becere, è una carta, in realtà, molto bella, è una carta, molto positiva, perché parla, di un enorme cambiamento, vi ripeto, un cambiamento, vedete, drastico, che però, guardate, porta, ad un nuovo orizzonte, quindi, ad una nuova, ovviamente, nascita, quindi, qui c'è qualcosa che muore, per dare, ovviamente, spazio a qualcosa che nasce, quindi, sicuramente, tra voi e questa persona, ci sarà un grande momento, di cambiamento, un cambiamento molto importante, che, ovviamente, sarà assolutamente, inerente, a una, diciamo, maggior presa di posizione, da parte di questa persona, che potrebbe anche, scioccarvi, in riferimento, appunto, chiaramente, alla sua posizione, per quanto riguarda, le due storie, cioè, questa persona, si mostrerà a voi, direi, quasi del tutto cambiata, quindi, vedrete quasi un'altra persona, pronta proprio a chiudere, e a trasformare, ex novo, la propria vita, vi dicevo, che questa è una persona, che ovviamente, non ce la fa più, ormai, si renderà conto, con la carta della morte, che il cambiamento, non può più essere evitato, quindi, parla di trasformazioni, parla di cambiamenti, che saranno, comunque, pur sempre dolorosi, perché la morte, parla di un cambiamento, sicuramente, molto duro, ma che non può più essere evitato, e a cui il consultante, non può sottrarsi, d'accordo? Quindi, è una carta molto bella, che parla della fine, di qualcosa di vecchio, per dare vita, a qualcosa di nuovo, quindi, la carta della morte, parla della fine, della distruzione, di qualcosa, che già c'era in essere, quindi, di solito, appunto, un rapporto, tipo un matrimonio, una convivenza, qualcosa di ufficiale, per lasciare spazio, a qualcosa, di completamente nuovo, quindi, vedrete questa persona, anche cambiare, nelle abitudini, nel modo, di rapportarsi, a voi, le tempistiche, della morte, diciamo, non sono lunghe, ma, anzi, direi, piuttosto brevi, cioè, generalmente, questo cambiamento, si verifica, entro un due o tre mesi, al massimo, ma, ovviamente, i primi effetti, li avrete, entro grosso modo, un mese, quindi, sicuramente, avrete, un autunno, e anche, un inizio, inverno, particolarmente, caldi, diciamo, proprio perché, ci saranno, degli enormi, cambiamenti, cambiamenti, che saranno, assolutamente, fisiologici, anche se pesanti, dolorosi, ma, necessari, cioè, qui, bisogna chiudere, col passato, non si può, permanere, in questa situazione, d'accordo? Quindi, questa persona affronterà, un momento, epocale, perché la carta della morte, parla della trasformazione, quindi, nel caso, in cui, voi vediate, questa persona, nelle prossime settimane, i prossimi mesetti, magari, preoccupata, la motivazione, sarà, ovviamente, legata a questo, quindi, a questo desiderio, di cambiamento, che diventerà urgente, e che verrà, però, poi, effettuato, definitivamente, d'accordo? Vi ripeto, sicuramente, entro appunto, l'autunno, e, ovviamente, l'inverno, quindi, grosso modo, massimo, due o tre mesi, qui ci saranno, dei cambiamenti, molto importanti, nella vita, di questa persona, in questa posizione, cerchiamo, di capire, quali aiuti, o meno, verranno, diciamo, dati, a voi, e soprattutto, a questa persona, per quanto riguarda, appunto, il futuro, e qui abbiamo, l'otto di bastoni, aiuti che, ovviamente, darete voi, a questa persona, ma, ve l'avevo già detto, con la regina di bastoni, voi siete un elemento fondamentale, nella vita di questa persona, e farebbe bene, ad ascoltare, anche, i vostri consigli, perché l'otto di bastoni, parla, appunto, anche, di, appunto, dialoghi, molto importanti, e chiarificatori, tra voi, appunto, questa persona, parla di contatti costanti, quindi, sentirete molto probabilmente, di più questa persona, perché parla, appunto, di comunicazioni, a seguito, di cambiamenti, che avverranno, in maniera molto veloce, e inaspettata, quindi, saranno delle ottime sorprese, che questa persona, vi farà, proprio perché, vi ripeto, questa è una persona, che ha bisogno di voi, ha bisogno del contatto con voi, ha bisogno di bastoni, quindi, vi desidera, ha bisogno proprio di, diciamo, in qualche modo, dare libero sfogo, anche, alla propria sessualità, al proprio erotismo, è una persona, che ha bisogno di, vedete, riaffacciarsi, ai bisogni della vita, che sono bisogni, comunque, fisiologici, normalissimi, e quindi, ovviamente, da, in qualche modo, espletare, è una persona, che, ovviamente, vuole, riaffacciarsi, anche, a tutto ciò, che rappresenta, l'erotismo, la sessualità, il sentirsi, anche, molto più virile, rispetto, a quanto si sia sentito, sino ad ora, ecco, questa persona, vi cercherà, molto di più, vi vedrà, molto di più, vi vedrete, molto di più, e vi farà capire, che vi desidera, terribilmente, e questo, sarà, l'inizio, del cambiamento, cioè, nel momento, in cui, questa persona, vi vedrà, e vi sentirà, di più, ovviamente, non, per obblighi, che gli imporrete, voi, ma, proprio, perché, lui, vi andrà, a cercare, di più, tra di voi, le cose, andranno, sicuramente, a migliorare, ci sarà, il vero cambiamento, la morte, perché, questa persona, ha bisogno, di vivervi, e quindi, vivendovi, di più, trascorrendo, vedete, anche, dei momenti, di relax, per esempio, assieme, dopo aver trascorso, una notte, infocata, è chiaro, che questa persona, si legherà, ancora di più, a voi, partirà tutto, vi ripeto, dalla sessualità, ma anche, dal contatto, comunicativo, dialogico, con questa persona, cioè, voi avrete, appunto, modo, di parlare, tanto, di confidarvi, tanto, e quindi, noterete, degli ottimi, cambiamenti, ragazzi, guardate, che, in posizione, del futuro, la carta, della morte, e la carta, dell'otto, di bastoni, sono due carte, meravigliose, che parlano, proprio, di un cambiamento, più o meno imminente, vi ripeto, entro, ovviamente, grosso modo, un mesetto, inizialmente, ma, vi ripeto, anche, sicuramente, andando avanti, nel corso, dei mesi, che, vi ripeto, sarà fondamentale, importanti, comunicazioni, e, ovviamente, importanti, incontri, che ci saranno, grosso modo, come tipico, appunto, dell'otto, di bastoni, entro, ovviamente, fine mese, o, comunque, nella terza decade, del mese, in cui, appunto, andrete a vedere il video, d'accordo? Quindi, ovviamente, vi faccio un esempio, per chi, darà questo video, i primi di dicembre, entro, ovviamente, fine dicembre, nel caso in cui, lo vediate in questi giorni, entro, ovviamente, fine novembre, o, comunque, entro, grossomodo, una trentina di giorni, quindi, grossomodo, entro un mesetto, quindi, incontri e comunicazioni, fondamentali, che apriranno, daranno il via, a dei veri, propri cambiamenti, cosa vi dicevo, con la carta della morte, i primi cambiamenti, grossomodo, entro un mese, per poi, ovviamente, ragazzi, dover attendere, ancora diversi mesi, qualche mesetto, ovviamente, per un vero e proprio cambiamento, d'accordo? Ora, vediamo, appunto, in ultima posizione, appunto, il futuro, ovviamente, più distante, tra voi e questa persona, quindi, che cosa accadrà, obiettivamente, tra voi e questa persona, in un futuro, appunto, sicuramente, più distante, avendo comunque, già, queste due carte, assolutamente, ben augurali. vediamo un po', e qui abbiamo, un bellissimo, ovviamente, re di denari. Allora, il re di denari, parla, appunto, di molta stabilità, parla, vi ripeto, sicuramente, di un uomo, che agira in maniera, molto concreta, ovviamente, molto consapevole, anche molto furba, sinceramente, perché il re di denari, generalmente, è un uomo, molto furbo, ma, vi ripeto, è anche un uomo, ovviamente, che sa il fatto suo, quindi, è un uomo molto intelligente, è un uomo, ovviamente, che cercherà, di, ovviamente, trarre il meglio, dalla situazione, un uomo appagato, perché parliamo di denari, anche, soprattutto, da un punto di vista, economico, finanziario, ma, anche, da un punto di vista, ovviamente, fisico, pratico, e, ovviamente, erotico, sessuale, perché parliamo di denari, quindi, di praticità, questa persona, vi ripeto, vi mostrerà, sicuramente, grande attrazione, vi dimostrerà, sentimento, vi dimostrerà, voglia di esserci, voglia di rimanere, al vostro fianco, il re di denari, è un uomo molto concreto, vi ripeto, è un uomo, che, in qualche modo, sa anche mettere da parte, il proprio denaro, il custodirlo, gelosamente, senza, ovviamente, sperperarlo, quindi, questa persona, riuscirà, sicuramente, nel suo intento, come vi dicevo, appunto, con il 2 di denari, di tenere, il più possibile, diciamo, dalla sua parte, alcune situazioni, economico, finanziarie, proprio per riuscire, ad avere un futuro, il più possibile, con le spalle coperte, ve lo dicevo, con il 9 di denari, agirà in maniera, molto matura, in maniera, molto responsabile, vi ripeto, in maniera, molto pratica, sarà, un uomo in carriera, è, quindi, una persona, che, sicuramente, avrà, un ambito, professionale, molto positivo, o comunque, vi ripeto, in ambito lavorativo, avrà delle grandi soddisfazioni, ecco, un uomo che, ovviamente, deciderà, per il suo futuro, partendo da un'ottima base economica, ma, ovviamente, in maniera, molto furba e calcolata, cercando di trarre il meglio, d'accordo? Quindi, vi ripeto, sicuramente, vi dimostrerà, in maniera matura, in maniera concreta, e responsabile, che questa persona, vuole impegnarsi con voi, perché, ovviamente, il re di denari, è un uomo, generalmente, impegnato, d'accordo? Quindi, allontanandosi, dalla compagna ufficiale, non deciderà, di trascorrere, ovviamente, il resto dei suoi giorni, in totale solitudine, bensì, cercherà, ovviamente, un riavvicinamento, a voi, sicuramente, o comunque, un iniziare, un qualcosa di nuovo, con voi, d'accordo? E' chiaro che però, ragazzi, parliamo di un re di denari, quali sono le caratteristiche, dei personaggi di denari, ve lo dicevo, con la regina di denari, sono persone, che agiscono lentamente, perché, non amano, i cambiamenti improvvisi, scioccanti, d'accordo? Quindi, è chiaro che, qui il cambiamento, c'è, perché c'è la carta della morte, con la carta dell'otto di bastoni, però, sicuramente, il re di denari, rallenta, la velocità, di queste due carte, quindi, purtroppo, sicuramente, questa presa di posizione, queste azioni concrete, tipiche, di ogni re, in questo caso, essendo un re di denari, verranno procrastinate, nel tempo, quindi, vi ripeto, primi cambiamenti, entro grosso modo, un mesetto, però, per aspettarsi, una vera e propria presa, di posizione, in questo caso, i mesi diventano, anche più di due, d'accordo? Perché, il re di denari, tende a rallentare, molto, le situazioni, perché, non ama gli scossoni, e, ovviamente, non ama i cambiamenti, improvvisi, vi ripeto, un uomo molto furbo, quindi, deve valutare i pro e i contro, cosa che farà? Ma vuole avere tutto, dalla sua parte, non vuole una virgola fuori posto, quindi, è una persona, che agirà, tenendo conto, soprattutto, del suo tornaconto, anche, dovendo far aspettare, di nuovo, voi. Dunque, le tempistiche, sono un po' più lunghe, del previsto, perché, il re di denari, vedete, troneggia, e quindi, rallenta, anche la morte, e l'otto di bastoni. Quindi, è chiaro, che la decisione ultima, ovviamente, come sempre nella vita, aspetta a voi, se, ovviamente, attendere o meno, vi dicevo, con il tre di bastoni, che qui ci sono altre persone, una in particolare, ovviamente, interessata a voi, che la vita, ovviamente, è vostra, e che, naturalmente, dovendo aspettare, comunque, delle tempistiche, che vanno oltre, i due o tre giorni, è normale che, dal vostro punto di vista, la situazione possa diventare, anche pesante, da sopportare, di conseguenza, ovviamente, la decisione ultima, spetta a voi. Questa persona, sicuramente, va verso, una forte evoluzione, perché, il re, è un uomo che cresce, è un uomo che matura, quindi, prenderà le sue decisioni, quindi, questa è una persona, che, andrà a chiudere, comunque, il rapporto con questa donna, è destinato a chiudersi, però, vi ripeto, guardate, ma, stesa che inizia con la regina di denari, termina con il re di denari, quindi, una coppia, che fa fatica, a sciogliersi, nonostante, non ci sia più nulla, non ci sia più sentimento, non ci sia più erotismo, sessualità, desiderio, nonostante, abbiano semplicemente, veramente, un rapporto fraterno, ma è una coppia, che deteste i cambiamenti, e che ama le situazioni, tranquille, serene, rutinarie, di conseguenza, è un uomo che crescerà, sì, è un uomo che maturerà, sì, è un uomo che con voi, avrà un'altra tipologia, di comportamento, sì, è un uomo che vi dimostrerà, quello che prova per voi, sì, agirà in maniera concreta, sì, ma tutto con lentezza, quindi, vi ripeto, i cambiamenti ci saranno, ma rallentati, ovviamente, nel tempo, d'accordo? Comunque, qui, entro un mesetto, grosso modo, vi ripeto, comunicazioni importanti, con quest'otto di bastoni, e incontri altrettanto infuocati, ma ovviamente, molto importanti, comunicazioni che diventeranno, sempre più profonde, e un grande cambiamento, ovviamente, da parte di questa persona, che la porterà ad essere, ovviamente, molto più matura, molto più saggia, con le caratteristiche di un re, i re, si prendono le responsabilità, delle loro azioni, ma, essendo un re di denari, lo farà in maniera, ovviamente, un po' più tardiva, però, vi ripeto, una persona che vi desidera, vi dimostrerà, tutto ciò che prova per voi, che vuole da voi, vi ripeto, una persona che, lasciando la compagna ufficiale, comunque, inizierà una storia anche con voi, o vorrà iniziare, una storia con voi, poi vi ripeto, starà a voi, la scelta, e la libera decisione, ricordatevi, che voi avete, qualcun altro, che però, sta mirando, ovviamente, a voi, d'accordo, e che quindi, la vita è vostra, ogni attimo della nostra vita, è prezioso, quindi, ovviamente, potreste anche decidere, di non attendere, tutte queste tempistiche, oppure attendere, ma nel frattempo, non togliervi la possibilità, anche voi, di conoscere qualcun altro, d'accordo, perché non dimenticate, che questo uomo, è pur sempre impegnato, ancora, d'accordo, quindi, sicuramente, in questo caso, qui, ci sono, delle ottime notizie, delle ottime novità, però, è un re di denari, non è un asso di coppe, d'accordo, quindi, non andrà tutto velocemente, qui, la situazione, sarà, ovviamente, più rallentata, perché, il re di denari, deve prima, guardare, ciò che interessa a lui, quindi, che lui abbia, le spalle coperte, che lui abbia, racimolato, diciamo, tutto il denaro, che dal suo punto di vista, è strettamente necessario, a lui, e poi, deciderà, ovviamente, di chiudere, lo farà, sì, ma, vi ripeto, con tempistiche, un po' lunghe, d'accordo, però, lo farà, certamente, ma voi qui avete, un tre di bastoni, io, ve lo ricordo, ovviamente, sempre, voi siete una regina, di bastoni, avete un valore enorme, e piacete, soprattutto, a tante persone, ricordatelo, ragazzi, che voi avete, un valore enorme, a prescindere, da questa persona, e che la vostra vita, è preziosa, d'accordo, dunque, vi ripeto, stesa molto bella, però, con un finale, altrettanto bello, ma la libera scelta, spetta, ovviamente, sempre a voi, questo sempre nella vita, d'accordo, voi sapete, che poi io tendo a rifare, ovviamente, le stese, quindi andremo ancora, a tenere d'occhio, ovviamente, la situazione, e, ovviamente, ragazzi, come sempre, mi raccomando, mettete voi stesse, la vostra felicità, come priorità, come sempre, ovviamente, buona fortuna, e a presto.